Sono a Sanremo perché sono un artista ma in quest'anno, soprattutto grazie ai Tourney Club dove ho avuto un confronto diretto con le persone, mi sono resa conto quanto io sia non solo un artista ma un simbolo per tante persone, un simbolo per tutte quelle persone con le quali la vita è stata un po' stronza, perché la vita con me è stata molto stronza, dalla mia malattia che mi ha perseguita per anni e mi ha lasciato senza grandi possibilità di maternità, alla perdita prematura di mio padre e invece di farmi travolgere dal dolore mi sono rimessa in piedi e ho costruito un disco. La musica è stata la mia ancora di salvezza perché mi sono ricordata di tutte quelle persone che negli anni mi hanno sempre detto mi hai aiutata grazie alle tue canzoni, le tue canzoni mi hanno aiutato a superare un momento difficile, quindi ho detto se è successo con loro magari può succedere anche a me, perché perdere mio padre in quel modo, dopo un anno di malattia intensa dove io ho cercato di essere una figlia ma purtroppo dovevo anche essere Emma Marrone per gli altri e l'ho fatto in silenzio, non mi sono mai fatta scappare una parola su quello che in realtà stavo vivendo perché credo di essere una persona molto dignitosa e non mi va di fare i piagnistei sui social e raccontare tutto quello che in realtà mi stava succedendo, quindi portavo avanti gli impegni che avevo preso, mi dividevo tra Milano e il Salento, a volte con voli dove stavo 24 ore a casa e ritornavo a fare il mio lavoro, ma sono contenta di quello che sono riuscita a fare per mio padre fino all'ultimo giorno anche se non ce l'abbiamo fatta e invece di mollare e invece di perdermi nel dolore, di farmi travolgere dalle cose brutte della vita ho fatto un disco, subito dopo il disco mi sono lanciata in un tour e Sanremo è la ciliegine sulla torta perché in questi mesi è come se quel disco fosse stata la mia tavola da surf e io di bracciate ne ho dovute dare tanto per risalire e adesso Sanremo è il picco dell'onda e io apro le braccia e plano che ne arriva e questo per dimostrare a tutte le persone che davvero hanno subito delle sofferenze enormi nella vita ma veramente che ce la possiamo fare tutti, ci si può rialzare grazie